Benvenuto nella guida alla registrazione per l'accesso ai servizi online del comune di Pioltello. Utilizzare servizio online nel comune di Pioltello è facile e sicuro, ma dovrai seguire alcuni semplici passi. Dalla home page del sito del comune, accedi alla sezione Servizio online. Esistono tre modi per utilizzare il servizio. I servizi con il lucchetto verde che vedi nel menu di sinistra sono ad accesso libero e non è necessario registrarsi. A questo livello potrai consultare l'albopretorio, seguire il consiglio comunale online o rivederne le registrazioni, fare il calcolo IMU, accedere allo sportello unico per le attività produttive e compilare un'autocertificazione. Per tutti gli altri servizi elencati del menu, invece, è necessario registrarsi. I servizi contrassegnati dal lucchetto arancione richiedono la registrazione come utente light. L'utente light può gestire i propri dati personali e accedere ai servizi di iscrizione alla mensa, al pre- e post-scuola e all'asilo nido. Per accedere al servizio di registrazione, clicca su Accesso e registrazione dal menu di sinistra. È possibile accedere anche con la CRS, la carta regionale dei servizi, seguendo le modalità indicate nel nostro sito. Se sei già registrato, inserisci il tuo codice fiscale e la password. Se accedi al servizio per la prima volta, invece, devi registrarti. Inserisci quindi il tuo codice fiscale e clicca su Registrati. Compila tutti i campi anagrafici richiesti. Ti ricordiamo che i campi con l'asterisco sono obbligatori. Dopo aver completato la scheda con i campi anagrafici richiesti, fai clic su Accedi. Verrà generata una nuova pagina con la password e il riepilogo dei tuoi dati che potrai stampare e conservare. I servizi contrassegnati con il lucchetto rosso sono per gli utenti certificati. L'utente certificato può consultare e stampare i dati anagrafici di stato civile, comunicare il cambio di indirizzo, compilare un'autocertificazione e comunicare la chiusura per ferie di un negozio. Per diventare utente certificato, occorre dapprima registrarsi come utente Lite. Una volta ottenuta la password, dovrai recarti presso lo sportello del cittadino del comune. Qui ti verrà consegnata una chiave d'accesso che ti servirà per accedere ai servizi certificati. Alla prima connessione dovrai inserire la chiave d'accesso per diventare utente certificato. Dalla volta successiva, sarà sufficiente inserire il codice fiscale e la propria password per accedere a tutti i servizi del sito. Ti ringraziamo per aver utilizzato i servizi online del comune di Peltello. Grazie a tutti i servizi online del comune di Peltello.